Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi. Credo che l'annuncio del Presidente Draghi di mettere mano al portafoglio per alleggerire il peso di queste bollette pesantissime sia sicuramente un segnale importante. Il rischio concreto è che si metta un bastone tra le ruote a quella che doveva essere una bicicletta che stava ripartendo all'insegna della ripresa economica dopo due anni di gestione pandemica che ci aveva messo tutti in crisi. È fondamentale poi stabilizzare le tariffe per quanto riguarda il futuro e l'appello che faccio partendo anche dal Comune di Treviso è quello di, visto che si sono accesi i riflettori sul tema dei consumi e delle tariffe, oggi parliamo di tariffe. Noi come Comune di Treviso siamo orgogliosi anche di dire ai nostri cittadini che ci stiamo concentrando sui consumi, tanto che stiamo progettando ben tre comunità energetiche con l'installazione di pannelli fotovoltaici negli immobili piuttosto che nelle ex discariche, proprio per gestire meglio i consumi del nostro Comune.